Un tripudio alla gara di Judo per il cinquantesimo anniversario della nascita della Kodokan Cosenza e primo Memorial Mario Mangerano. Al Palacosenza, oltre i 500 gli atleti che hanno messo in mostra le proprie doti. Sugli spalti, più di 1000 spettatori hanno assistito a una giornata di festa, soprattutto ricca di emozioni, nel nome di Mario Mangerano, scomparso pochi mesi addietro e che ha lasciato, attraverso la sua grande passione e determinazione, un segno indelebile e profondo nella storia sportiva calabrese, di cui è stato pezzo importante e vincente. Cinque le regioni che hanno partecipato all'evento, Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania e Puglia. E cinque anche le categorie in gara, bambini, rendori dei con lotta e judo gioco, fanciulli del 2012 e il 2013, ragazzi del 2014 e il 2015, esordienti A del 2011, esordienti B del 2009 e 2010. A vincere è stata la doio judo Remorini di Pianolago, mentre al secondo posto si è piazzata la nuova Sakai Battipaglia. Visibilmente commosso ed entusiasta, il presidente della judo calabrese e vicepresidente della Filcam regionale, Marco Mangerano. Siamo qui al Palacosenzia, il palazzetto dello sport di Via Popilia, in compagnia di Marco Mangerano. Siamo venuti qui, c'è tantissima gente, proprio per i 50 anni di questa prestigiosa e gloriosa palestra, che è nata da un'idea geniale del papà Mario, addirittura nel 1973, quindi è stato il primo a portare le arti marziali, in particolar modo il judo, a Cosenza ma anche nella Calabria, credo. Sì, mio padre fin dalla sua giovanità ha avuto la passione per il judo, infatti appena lui è rientrato dalla Germania, perché mio padre è emigrato con la famiglia, la prima cosa che ha fatto è aprire una palestra, appunto nel 1973. Lui ha promosso inizialmente il judo, successivamente è passato alla ginnastica artistica, al kendo, al fitness, al taekwondo, al karate, alla ginnastica ritmica e tanti altri sport, principalmente sport olimpici. Purtroppo è venuto a mancare, abbiamo avuto la fortuna di essere stati guidati bene, infatti tutti i tre figli continuano nel suo percorso. Sì, infatti oggi è una bellissima manifestazione dove tantissimi bambini che si apprestano a fare questo sport, che in Calabria magari non è tanto, però il judo proprio che cosa insegna a questi ragazzi, abbiamo visto tantissimi bambini proprio entusiasti di fare questa attività insieme a voi e ai vostri maestri. L'UNESCO ha dichiarato che il judo nell'età evolutiva è lo sport più completo per la fase psicofisica del bambino e ovviamente il ragazzo in questo modo si confronta con gli altri nel rispetto delle regole perché sappiamo benissimo che è un periodo dove le regole vanno insegnate nel modo corretto, nel prendere coscienza della propria posizione, nelle capacità coordinative, nella parte acrobatica, elastica, fisica, muscolare dell'atleta. Quindi il judo è uno sport completo sotto ogni aspetto. Sì, non solo come ha detto Marco, non solo judo, anche pesistica, anche ginnastica artistica, quindi la Kodokan in questi 50 anni fortunatamente è cresciuta e possiamo dire che è un fiore all'occhiello di Cosenza e non solo. Allora dalla nostra palestra sono passate i vari campioni, fra cui la medaglia olimpica di Londra 2012, abbiamo i campioni italiani di ginnastica artistica. Attualmente, e me ne sono fiero, le mie figlie sono entrambi i campionisti italiani di pesistica olimpica. Infatti Martina, la prima, da qualche giorno ha ricevuto la convocazione della nazionale italiana e il 3 luglio parteciperà con i colori verdi, bianco e rossi ai campionati europei che esiteranno a Kisinau o in Moldavia. Ecco, quindi a dimostrazione che la Kodokan non solo dura da 50 anni, ma vuole sempre migliorare. Cosa, io ti chiedo Marco, cosa in cantiere, in futuro, visto che questa palestra sta crescendo in maniera esponenziale? Allora, vi informo che per la prima volta in Calabria si terrà la finale di un campionato italiano di pesistica olimpica. Il 4-5 luglio siete invitati voi primi a partecipare. Si terrà al Palacosenzia, finale campionato italiano under 15 di pesistica olimpica. Verremo i migliori atleti, futuri campioni della pesistica olimpica. Sì, concludiamo con un ricordo, già l'hai fatto prima, con un ricordo di Mario Mangiarano che ho visto è stato stimato da tantissimi vecchi amici che sono venuti qui anche con targhe, con riconoscimenti. Insomma, tuo padre ha seminato bene, visto che i figli stanno continuando quello che ha fatto lui e anzi stanno andando forse anche oltre le più rosee aspettative. La missione della vita di mio padre, non che mio maestro, è stata quella di promuovere il judo. Spesso lo ha messo anche avanti la famiglia a vedere nostro, ma non era così. Lui continuava a seminare. Quando raggiungeva un obiettivo come una vetta, lui già pensava di salire sulla vetta superiore. E così ha fatto. Molti atleti di mio padre che trattava come figli adesso vivono di sport. E io ne sono orgoglioso perché queste cose si capiscono quando la persona non c'è più. Non ho altre parole da dire. Grazie. Concludiamo qui con il ricordo commosso di Marco, al quale mi accodo io perché anche mio zio è stato all'epoca uno dei primi judocchi, si dice, di Mario. Quindi concludiamo qui l'intervista con questa bellissima festa e facciamo ancora gli auguri per il cinquantesimo anniversario della Covocan. Grazie. Grazie.